Mi tolgo la maglietta, io spendo 3 miliardi di soldi di Roberts e mi trovo il niente. Schiedetemi con sotto nei commenti se vi è capitato anche a voi e mettete anche un like. Allora, prima di tutto si controlla, diciamo controlla, se c'è qualche fan, no? Non c'è nessuno? Perfetto. Perfortunano. Oh, non ha scritto. Dove? No, no, no. Bravo. Dove? Eccolo. Ehm, mi sono spaventato. Grazie! E' alto, conto me. Ok. Ma non c'è un cavolo di petto. Bella è molto più brava. Vuoi petto? Sì? Spero che dico di sì. No. Ma perché? Perché? Se voglio. Eh, allora sì. Come che si chiama? Antonio Lognolo. Eh, non gli accetto. Ah, me l'ha mandato a lui. Tieni. Il mio petto migliorirà. Poi non ne ho altri, eh. Sto da... Allora, spero che mi ringrazio. Allora, spero che mi ringrazio. Ma... Sì, adesso non so più o che fare. Cosa? Grazie. Eh... Grazie. Sto facendo finto. saluta youtube ciao non ho petto adesso che faccio ahhh che faccio che faccio che faccio una cosa non ho mai guardato cosa c'è adesso dopo che si sblocca tutto trading plazzo che cos'è? è un milione e un milione non ce l'ho io ci vorrei andare ma non ero quindi come si facevano allora robux mi sa che non ne ho più ah ce l'ho però 250 cioè sono un po' esagerato invece prendo il teleport ragazzi solo se lasciate guardate 3 like no vabbè 3 è poco 4 5 mi vanno benissimo lo compro va bene solo per voi solo 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 per voi avete capito sappiamo per voi ehm cosa cazzo si perchè non c'ho fatto la cosa cazzo io sono proprio cosa c'è ma c'è un altro ragà ma non c'è 111 robux per un Natale vicino c'è vicinissimo no però non so che fare eccolo la che mi riscrivono ragazzi non mi credete che tutto stato fatto c'è che io ho detto a questo qui di scrivermi questa è la chat mi è esploso un orecchio ha detto ti ho detto oh mi sono ridendo di petto oh grazie dai che schifoso ma che schifo dai non sei manco da computer io sì poi ragazzi ditemi se vi piace perché mi sono preso la camionata robotica infatti guardate tutto tutto perché non ho fatto che bella sono una scena ok dai dai pet per favore ma perché poi c'è un dipending che prego 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 io spero per ultimo che me li dà Ok, ok, ok forse devo dare qualcuno più aiuto raga se non riesca a prendermi di stipendio oh ce l'ho fatta se volete un petto non voglio essere truffato il video questo è il papo il cobra poi vedo il cotone il ciclope il gatto questo qui adesso non so cosa ne faccio ok c'è un petto raro a quanto ho capito questo server fa schifo non mi contogno lo nome di quando l'omicidia perchè bisogna essere bravo poi avete visto che non c'è l'amicizia piena? certo perchè sto aspettando tutti voi che me le mandate scrivetemi qua sotto mi commento il vostro nickname e io vi manderò l'amicizia eeeh mi danno 50 mila diamanti eeeh eeeh non so dove si riscattano non so dove si riscattano non so dove si riscattano eeeh aspetta se io ho smettato non so dove si riscattano eeeh Grazie a tutti. Ecco. Grazie. 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 Allora. Mi devo mettere una maglietta. Non la devo comprare. No. Non la devo comprare. Mi metto un'altra. Questa è l'interno. Se ce la fa. Poi l'animazione. Mi devo mettere quella da roba. Cammino. Robot. Corri. Robot. Cade. Robot. Salta. Robot. Muota. Robot. Cala. Robot. Mi attivo. Robot. È tutto robot. Cos'è tutto questo? Che figo. Non è più. Non è più. Non è più. Non è più. È tutto. colo colo no vabbè adesso mi trovo un gioco guarda che sarà bellissimo ma proprio di quelli troppo bene ecco visto come si può vedere da qui manco mi faceva entrare ma che cavolo sto ma che 9 no vabbè non sarei fatto troppo bene come gioco ma cos'è sta schifezza cioè non posso fare un cavolo allora so che questo qui dovrebbe essere un treno e so anche che è molto brutto ma devo mettere la sequenza colore verde rosa giallo rosso verde rosa giallo rosso ecco ho finito il gioco no vabbè troppo bello questo gioco è durato proprio tre ore bellissimo e e corso mi c e 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 Alla prossima. Allora, cos'è il videogame? Allora, vuole? Allora, non si può tenere proprio tutto il contino. Allora, non so. Allora, non so. Allora, non so. Allora, non so. E' un nuovo capolavoro. mi piacerà tantissime persone 30 in alto c'ho 10 wow che bello troppo bello gli effetti allora continuiamo ok questo è il colore nero è bellissimo questo nero lo collega la ps5 questa panzone speriamo che non mi dà il copyright youtube scusa se non vedete il gioco aspettate non si sa mai ok anche se ragazzi non è il gioco è il mio amico da quando sai io si si ok ragazzi aspettate questa sfida è più bassa è il mio amico gigantissimo anche se lo vedete troppo niente ma mi sa che non ce la faccio è il mio amico 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 gianci mi ha Ah! Ho messo un dettaglio questo Allora, guardate Ok Ho scritto Allora, guardate Questo è bellino Cos'è lì a mettere un video? Ah, non mi trovo la stessa idea Però è brillo Vabbè Mi trovo il video No, tutto Lo portino Cos'è? Ah, è bello No, non è bello No, non è bello Però... Eh, è un computer L'ho capito ora Cos'è sta cosa? Allora, qua È bellissimo Non è piccola In questa mappa non si può saltare Che cavolo? No Mi portiamo Che bellino che è Ah! Quello di Youtube Non è certo al 100% Questo è il mio Questo è il mio Quella è la mia PS5 Nooo Non guardate dietro Dietro è successo anche il video E' bello Ah, è bello Ah, Nintendo si E' bella E' bella Dai, si è dato l'impegno Cioè, l'impegno no Perché il cavo Continua In là Cioè, va qua Che schifo è questa cosa, Bobbi Ah, voleva fare la PS5 Ah, voleva fare la PS5 Ma sono già 100% 100.000 per 1.000 3.000 per 3.000 No, 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 no No, no, no Ehm No, noto Un nube questo Ciao Sei come me Ok, questo è robbiato Sì Dove ti provo? Sì Non è ma molto considerato Ma È l' Nintendo Switch Io Stai mancare un mondo Vabbè roba Il video esce Buonchissimo Mi dispiace se non mi edito Ma va bene Spero che questo video vi sia piaciuto Come sempre Se non l'avete fatto Iscrivetevi al canale Attivate la campanita E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao